Sfrecciava sulle curve a tutto gas con una moto super modificata, ma è stato bloccato dai carabinieri forestali sul passo dello Spino a Pieve Santo Stefano e definito Nei Guai. Il mezzo sul quale viaggiava, infatti, di fatto, era una moto fantasma inesistente, ossia non corrispondeva ad alcun modello in circolazione con una quantità tale di modifiche incredibile, il tutto in mancanza di immatricolazione e assicurazione e targa falsa. Sul libretto di circolazione, però, era riportato che la moto fosse una Ducati 748. Invece, ciò che i militari avevano di fronte era una sorta di ibrido che proprio nulla aveva a che fare con quel modello. Al motociclista, un quarantenne bergamasco, sono state contestate tre violazioni, circolazione con motociclo mai immatricolato, senza assicurazione per responsabilità civile contro terzi ed infine circolazione con targa di immatricolazione non propria. La moto, ovviamente, è stata sequestrata.